Sono Vittoria da Taranto. Io penso che il metodo autobiografico creativo per l'intelligenza emotiva ideato da Stefano Centonze sia un metodo molto valido per la formazione dei giovani, soprattutto nell'ambito della crescita personale. Il metodo si avvale delle arti terapie in generale, quindi parliamo dell'arte terapia, della musicoterapia, della teatro terapia e della danza movimento terapia che mettono a disposizione le loro tecniche artistiche per poter indagare nel proprio vissuto interiore dell'utente, nel vissuto interiore, nelle emozioni, poterle esternare mediante gli strumenti artistici e da ciò poter entrare in contatto oggettivo con ciò che viene esternato. Quindi poterli osservare oggettivamente consente di prenderne consapevolezza ed è proprio la consapevolezza dei propri vissuti e delle proprie emozioni che aiuta alla crescita personale.